Per festeggiare il suo centesimo anniversario, il marchio Maserati porta infine sotto i riflettori del Salone Parigino un'edizione speciale della Ghibli, firmata dalla famosa griff Hermenegildo Zegna e la suntuosa concept car Maserati Alfieri. Maserati festeggia a Parigi il suo centesimo anniversario con la Ghibli Hermenegildo Zegna, un'edizione limitata a soli 100 esemplari atta a consacrare il sodalizio italiano tra la Casa del Tridente e la famosa Maison italiana. Ovviamente però a rappresentanza anche del marchio abbiamo la quattroporte GTS Modellier 2015 e poi il concept che ha vinto il concorso Villa d'Est del 2014 Alfieri. Grazie a tutti!